oggi siamo al passo sella la nostra meta è quella di andare sul rifugio fridica augusto fra un po ci incamminiamo ecco l'occhio è già pronto rockfaring sassolungo anche bella montagna qui si riempiono poi il bar capelli se giriamo adesso noi ce ne andiamo su diretti a sinistra oggi la giornata non è proprio il massimo non è che ogni giorno può essere bellissimo panorama stupendo normonada passosella e la strada per il rifugio fridica augusto dove siamo diretti ora è circa una mezz'oretta tranquillissima dal parcheggio della sella panorama 360 gradi eccoci arrivati col fridica augusto adesso scendiamo qui sotto c'è canazzei l'amico di rock è già soltente che lo aspetta che fa un po giocheranno insieme questo dovrebbe essere lui strancher 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 questo dovrebbe essere un po' questo il 到�로 con i carnidali però con la carne loro. Dopo un'ottima mangiata nel rifugio Friedrich August andiamo a Gerval Gardena. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.